Ciao ragazzi, in questo video parliamo degli sviluppi di Taylor McLaurin. Sappiamo che l'enunciato del teorema di Taylor con il resto di Peano è questo. Consideriamo un intorno i di x con 0 appartenente a r e una funzione derivabile n-1 volte definita sull'intervallo i con valori in r. La funzione deve essere tale che esista la derivata ennesima della funzione in x con 0. Allora f di x si può riscrivere come la somma per k che va da 0 a n della derivata k-esima di f valutata in x con 0 fratto k fattoriale per x meno x con 0 alla k più 1 piccolo di x meno x con 0 alla n. Questo polinomio, definito tramite la sommatoria e indicato con il simbolo tn x con 0 di x, è il polinomio di Taylor di ordine n centrato in x con 0. E può essere riscritto in questo modo. f di x con 0 più f' in x con 0 per x meno x con 0 più la derivata seconda di f in x con 0 fratto 2 per x meno x con 0 al quadrato più tutti i vari termini dipendenti dalle derivate della funzione f fino all'ultima, in cui ritroviamo la derivata ennesima di f valutata in x con 0 fratto n fattoriale per x meno x con 0 alla n. Abbiamo studiato questo teorema e visto la dimostrazione in uno dei video precedenti, che vi invito ad andare a vedere. In questo video studiamo invece il polinomio di McLaurin, che corrisponde al polinomio di Taylor centrato nel punto x con 0 uguale a 0. Ritroviamo quindi questa formula. Il polinomio di McLaurin di ordine n è uguale a f di 0 più f primo in 0 per x più f secondo in 0 fratto 2 per x quadro più tutti i vari termini dipendenti dalle derivate successive di f fino alla derivata ennesima di f valutata in 0 fratto n fattoriale per x alla n. Sotto opportune ipotesi, quelle che abbiamo appena visto nel teorema, possiamo allora dire che in x con 0 uguale a 0 possiamo sviluppare f come la somma del polinomio di McLaurin di ordine n più 1 piccolo di x alla n. In analisi matematica, l'uso del polinomio di McLaurin è particolarmente importante e in questo video andiamo a imparare alcuni sviluppi di funzioni particolarmente importanti. Andiamo poi a svolgere i conti per le funzioni esponenziale logaritmo e seno, convincendoci che gli sviluppi che ora vediamo sono effettivamente quelli corretti. Vediamoli allora. Per prima cosa la funzione esponenziale si può riscrivere come 1 più x più un mezzo x quadro più tutti i vari termini fino a 1 fratto n fattoriale per x alla n più 1 piccolo di x alla n. Questo sviluppo si può riscrivere anche come la somma per k che va da 0 a n di 1 fratto k fattoriale per x alla k più 1 piccolo di x alla n. Il logaritmo in base naturale di 1 più x si può riscrivere come x meno un mezzo x quadro più un terzo x alla terza e in generale più meno 1 alla n più 1 fratto n x alla n più 1 piccolo di x alla n. Questo sviluppo si può riscrivere come la somma per k che va da 1 a n di meno 1 alla k più 1 fratto k per x alla k più 1 piccolo di x alla n. Mi raccomando che questo polinomio di McLaurin è valido solo per le x tali che il valore assoluto di x sia minore stretto di 1. Vediamo poi lo sviluppo della funzione seno. Il seno di x si può scrivere come x meno un sesto x alla terza più un centoventesimo x alla quinta più tutti i vari termini vedete di ordine dispari fino a meno 1 alla n fratto 2n più 1 fattoriale per x alla 2n più 1. Andiamo poi ad aggiungere 1 piccolo di x alla 2n più 2. Osservate quindi che lo piccolo è di un ordine superiore all'ultimo polinomio che abbiamo riscritto. Il seno si può poi riscrivere in forma compatta in questo modo, come la somma per k che va da 0 a n di meno 1 alla k fratto 2k più 1 fattoriale per x alla 2k più 1 più lo piccolo di x alla 2n più 2. Vedete che lo sviluppo del seno va a considerare sempre potenze dispari, proprio perché il seno è una funzione dispari. In modo analogo abbiamo che il coseno di x è uguale a 1 meno un mezzo x quadro più un ventiquattresimo x alla quarta più tutti i termini di grado pari fino a meno 1 alla n fratto 2n fattoriale per x alla 2n. Si va poi ad aggiungere 1 piccolo di x alla 2n più 1. Osservate che lo piccolo è di ordine superiore al grado dell'ultimo monomio che abbiamo considerato. Possiamo riscrivere questo sviluppo in forma compatta come la somma per k che va da 0 a n di meno 1 alla k fratto 2k fattoriale per x alla 2k più 1 piccolo di x alla 2n più 1. Osservate che nello sviluppo del coseno ritroviamo solo potenze pari, proprio perché il coseno è una funzione pari. E osservate che sia nello sviluppo del seno per potenze dispari, che nello sviluppo del coseno per potenze pari, ritroviamo sempre segni alterni. Studiamo ora le due funzioni iperboliche, seno iperbolico e coseno iperbolico. Il loro sviluppo è sostanzialmente lo stesso delle funzioni trigonometriche. Ritroviamo però sempre segni positivi. In particolare il seno iperbolico di x è uguale a x più 1 sesto x alla terza più 1 centoventesimo x alla quinta, poi tutti i termini di ordine dispari fino a 1 fratto 2n più 1 fattoriale per x alla 2n più 1, più 1 piccolo di x alla 2n più 2. Possiamo riscrivere questo sviluppo in forma compatta come la somma per k che va da 0 a n di 1 fratto 2k più 1 fattoriale per x alla 2k più 1, più 1 piccolo di x alla 2n più 2. Come detto, in maniera sostanzialmente analoga, ritroviamo il coseno iperbolico. Questa volta avremo uno sviluppo con potenze pari, in particolare 1 più 1 mezzo x quadro più 1 ventiquattresimo x alla quarta fino a 1 fratto 2n fattoriale per x alla 2n più 1 piccolo di x alla 2n più 1. Riscritto in forma compatta abbiamo la somma per k che va da 0 a n di 1 fratto 2k fattoriale per x alla 2k più 1 piccolo di x alla 2n più 1. Studiamo anche lo sviluppo dell'arco tangente che è uguale a x meno un terzo x alla terza più un quinto x alla quinta più l'ennesimo termine che si può riscrivere come meno 1 alla n fratto 2n più 1 per x alla 2n più 1 più 1 piccolo di x alla 2n più 2. Osservate quindi che nell'arco tangente ritroviamo tutte potenze dispari con segno alterno in cui i coefficienti sono invece dati da 1 fratto 1 3 5 quindi tutti interi dispari. Possiamo riscrivere l'arco tangente come la sommatoria per k che va da 0 a n di meno 1 alla k fratto 2k più 1 per x alla 2k più 1 più 1 piccolo di x alla 2n più 2. Vi riporto inoltre quest'ultimo importante sviluppo che è quello di 1 più x alla alfa in cui alfa è un numero reale. Abbiamo la somma per k che va da 0 a n del coefficiente binomiale alfa su k per x alla k più 1 piccolo di x alla n. Il coefficiente binomiale alfa su k con alfa numero reale è definito come alfa per alfa meno 1 moltiplicando poi tutti i termini fino ad alfa meno n più 1 tutto fratto n fattoriale. Due casi particolarmente importanti riferiti a questo sviluppo sono quelli in cui abbiamo alfa uguale a meno 1 e quindi ritroviamo lo sviluppo di 1 fratto 1 più x. Infatti vedete qui ritroveremo 1 più x alla meno 1. Questo sviluppo è dato da 1 meno x più x quadro meno x alla terza fino all'ennesimo termine meno 1 alla n per x alla n più 1 piccolo di x alla n. Si può riscrivere in forma compatta come la somma per k che va da 0 a n di meno 1 alla k per x alla k più 1 piccolo di x alla n. Se invece andiamo a scegliere alfa uguale a un mezzo ritroviamo lo sviluppo della radice di 1 più x che è uguale a 1 più un mezzo x meno un ottavo x alla seconda e via così fino all'ennesimo termine meno 1 alla n meno 1 per 3 per 5 per 7 moltiplicando fino a 2 n meno 3 tutto fratto n fattoriale per 2 alla n per x alla n più 1 piccolo di x alla n. Tutti questi sviluppi sono particolarmente importanti nello svolgimento degli esercizi. Vi consiglio quindi di tenerli sempre presenti. Nella seconda parte del video andiamo a dimostrare questi sviluppi nel caso dell'esponenziale, del logaritmo e della funzione seno. Iniziamo con lo sviluppo di Taylor-McClaurin, quindi nel punto x uguale a 0, di f di x uguale e alla x. Abbiamo che la funzione valutata in 0 è e alla 0 e quindi vale 1. La derivata prima, f' di x, è uguale a e alla x e quindi anche la derivata prima in 0 vale 1. Stessa cosa per la derivata seconda, che vale sempre e alla x e quindi in 0 vale 1. In questo modo ritroviamo che tutte le derivate sono uguali a e alla x e in particolare la derivata ennesima e quindi la derivata ennesima in 0 vale 1. A questo punto possiamo applicare la formula dello sviluppo di Taylor-McClaurin e ritrovare lo sviluppo di e alla x. Quindi vedete, avremo 1 più 1x più un mezzo x quadro e in generale l'ennesimo addendo è 1 fratto n fattoriale per x alla n. Possiamo quindi scrivere che e alla x è uguale a 1 più x più un mezzo x quadro più 1 fratto n fattoriale x alla n più 1 piccolo di x alla n. È interessante visualizzare questo sviluppo dell'esponenziale da un punto di vista grafico. Quindi vedete, questo è il grafico di e alla x e andiamo ora ad analizzare il polinomio di Taylor in x uguale a 0. Abbiamo che il polinomio di ordine 0 è 1, quindi vedete, ritroviamo questa funzione costante che ha come unica cosa in comune con l'esponenziale il fatto che in 0 vale 1. Approssimiamo meglio e andiamo a considerare il polinomio di ordine 1. Vedete che ritroviamo la retta tangente al grafico nel punto 0,1. Questa retta è proprio y uguale a 1 più x. Adesso andiamo ad approssimare sempre meglio la funzione esponenziale con i polinomi di Taylor-McClaurin di ordine superiore. Quando consideriamo l'ordine 2, vedete, ritroviamo questa parabola. Poi, con il polinomio di ordine 3, una cubica. Poi ritroveremo il polinomio di ordine 4. E via così tutti i vari polinomi di ordine n. Vedete quindi che all'aumentare dell'ordine ritroviamo sempre una approssimazione migliore della funzione. Passiamo adesso al logaritmo e in particolare consideriamo f di x uguale al logaritmo in base naturale di 1 più x e andiamo a svolgere il calcolo del polinomio di Taylor-McClaurin. Mi raccomando che questo sviluppo è valido solo per le x il cui valore assoluto è strettamente minore di 1, come poi potremo vedere anche graficamente. Ritroviamo prima di tutto che la funzione in 0 vale il logaritmo di 1 e quindi 0. Andiamo ora a calcolare le varie derivate. La derivata prima è 1 fratto 1 più x e quindi in 0 vale 1. La derivata seconda è meno 1 fratto 1 più x al quadrato. Ne segue che la derivata seconda in 0 è uguale a meno 1. Proseguiamo. Troviamo che la derivata terza è uguale a 2 fratto 1 più x alla terza e quindi la derivata terza valutata in 0 vale 2. Vediamo anche la derivata quarta. Vale meno 2 per 3 fratto 1 più x alla quarta e quindi la derivata quarta in 0 è uguale a meno 3 fattoriale, cioè meno 6. Proseguendo in questo modo ritroviamo che la derivata ennesima in x è uguale a meno 1 alla n più 1 per n meno 1 fattoriale fratto 1 più x alla n. Ne segue che la derivata ennesima in 0 vale meno 1 alla n più 1 per n meno 1 fattoriale. Possiamo adesso scrivere lo sviluppo di Taylor-McClaurin della funzione logaritmo di 1 più x. Abbiamo 0 più 1 per x meno un mezzo x quadro più 2 fratto 3 fattoriale x alla terza. Vedete? Ho preso la derivata terza e sono andato a inserirlo nella formula di Taylor-McClaurin. Semplificando il 2 col 3 fattoriale ritroviamo un terzo. In maniera analoga, quando andiamo a considerare il termine successivo dipendente dalla derivata quarta, abbiamo meno 3 fattoriale fratto 4 fattoriale per x alla quarta. Semplificando i fattoriali otteniamo meno un quarto x alla quarta. Procediamo in questo modo fino all'ennesimo termine, in cui ritroviamo meno 1 alla n più 1 per n meno 1 fattoriale fratto n fattoriale per x alla n. Semplificando anche in questo caso i fattoriali, otteniamo meno 1 alla n più 1 fratto n per x alla n. E possiamo quindi riscrivere, vedete, in maniera ordinata, lo sviluppo del logaritmo in base naturale di 1 più x, che è uguale a x meno un mezzo x quadro più un terzo x alla terza e, svolgendo tutti i vari termini, arriviamo a meno 1 alla n più 1 fratto n per x alla n più 1 piccolo di x alla n. Andiamo anche in questo caso a visualizzare lo sviluppo che abbiamo appena calcolato. Questa è la funzione logaritmo di 1 più x e andiamo ad analizzare i vari sviluppi di Taylor-McClaurin nel punto 0,0. Abbiamo che ovviamente il polinomio di ordine 0 è 0, dopodiché ritroviamo x, che è esattamente la retta tangente al grafico nel punto 0,0. Nello sviluppo di ordine successivo, cioè quello dipendente da x al quadrato, ritroviamo questa parabola concava. E a questo punto, proseguendo, vedete, ritroviamo un terzo x alla terza, quindi una cubica, poi l'x alla quarta e via così tutti i vari sviluppi del polinomio di Taylor. Osservate che l'approssimazione è ben fatta solo per le x comprese fra meno 1 e 1 e questo proprio per la limitazione che avevamo richiesto inizialmente, cioè che la x abbia modulo minore stretto di 1. Appena andiamo oltre l'1, lo sviluppo non è assolutamente una buona approssimazione e troviamo un errore molto grande. Passiamo ora a vedere lo sviluppo della funzione f di x uguale al seno di x. Abbiamo f di x uguale al seno di x e quindi f di 0 uguale a 0. Calcoliamo la derivata prima e ritroviamo il coseno. Ciò significa che la derivata prima in 0 vale 1. La derivata seconda è uguale a meno seno di x e quindi la derivata seconda in 0 vale 0. La derivata terza della funzione è uguale a meno coseno di x. Ritroviamo quindi che la derivata terza in 0 vale meno 1. Quando andiamo a calcolare la derivata quarta ritroviamo nuovamente il seno, che ovviamente in 0 vale 0. Ora osservate. Siamo partiti dalla funzione uguale al seno di x e siamo arrivati alla derivata quarta uguale al seno di x. Questo significa che nel momento in cui andiamo a svolgere le derivate successive della funzione seno, dopo quattro derivate ritorniamo al punto di partenza e quindi ogni quattro derivate ritroviamo sempre seno coseno meno seno meno coseno. Ciò significa che questa è la derivata quarta, poi ritroviamo la derivata quinta, la derivata sesta, la derivata settima e poi nuovamente la derivata ottava e via così. Chiaramente questa alternanza si nota anche nella valutazione delle derivate in 0 e quindi vedete? Abbiamo 0, 1, 0, meno 1 e poi si ricomincia con lo 0. Praticamente si alternano valori nulli e valori 1 e meno 1. In particolare abbiamo che le derivate di ordine pari sono nulle. Vedete? 0, 0, 0. Viceversa le derivate di ordine dispari valgono 1 oppure meno 1, a seconda che ritroviamo la derivata prima più tutto il ciclo oppure la derivata terza più tutto il ciclo. Possiamo allora andare a riscrivere lo sviluppo del seno che sarà uguale a 0 più 1x più 0 fratto 2 fattoriale x quadro più meno 1 fratto 3 fattoriale x alla terza più 0 fratto 4 fattoriale x alla quarta più 1 fratto 5 fattoriale x alla quinta più tutti gli altri termini che ritroviamo nuovamente in questo modo ciclico che abbiamo appena visto. In generale avremo solo esponenti dispari con segni alternati. Vedete? Più, meno, più e tutte le potenze pari hanno un coefficiente nullo. Il generico termine della somma è meno 1 alla n fratto 2n più 1 fattoriale per x alla 2n più 1. Quindi riscrivendo tutto in modo ordinato abbiamo x meno un sesto x alla terza più 1 fratto 120 x alla quinta più tutti i vari termini fino a meno 1 alla n fratto 2n più 1 fattoriale per x alla 2n più 1. dobbiamo adesso aggiungere il resto di peano che, ricordando che le derivate di ordine pari sono nulle e quindi in particolare anche il termine successivo a questo avrà un coefficiente nullo proprio perché la derivata di ordine 2n più 2 di f valutata in 0 deve essere 0, sarà un resto del tipo o piccolo di x alla 2n più 2. Andiamo a visualizzare anche questo sviluppo da un punto di vista grafico. Vedete questa è la funzione seno che in 0 vale 0 e andiamo ora a ricostruire il polinomio di Taylor. Ovviamente in 0 vale 0 e quindi abbiamo che il polinomio di Taylor di ordine 0 è semplicemente y uguale a 0. Quando consideriamo il polinomio di ordine 1 ritroviamo la retta tangente al grafico nel punto 00 e via così ritrovando soltanto il polinomio di ordine dispari. E quindi vedete? Questo è il polinomio di ordine 3. Dopodiché il polinomio di ordine 5, ordine 7, ordine 9, 11, 13 e vedete come riusciamo sempre a ritrovare un'approssimazione migliore della funzione seno. Mi piace rivedere anche tutti questi polinomio di Taylor in un unico grafico vedendo proprio come all'aumentare dell'ordine del polinomio l'approssimazione della funzione seno è sempre migliore e l'errore è di un ordine superiore. In modo del tutto analogo possiamo dimostrare anche lo sviluppo della funzione coseno costruito con potenze pari. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire quali sono gli sviluppi di Taylor-McLaurin nelle funzioni principali che andiamo a studiare in analisi matematica. Continuate a seguire i video di questo canale, mettete il mi piace e fate un commento. A presto!